E' rottura nella maggioranza amministrativa del comune di Castellabate guidato dal sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. La sindaca ha azzerato la giunta revocando tutte le deleghe assessoriali al fine di garantire un'azione amministrativa più efficace per gli ultimi mesi dell'attuale consigliatura procedendo in contemporanea alla nomina dei nuovi assessori del comune di Castellabate. Queste le precisazioni di Luisa Maiuri che continua. Si tratta di una decisione assunta per migliorare ulteriormente la qualità del lavoro amministrativo nell'interesse della comunità. Il principio al quale mi sono ispirata e che guida ogni amministrazione comunale è quello della coerenza e dell'unione di una squadra, cosa che purtroppo ultimamente era venuta a mancare. La mia decisione è scaturita da alcuni comportamenti di un componente della giunta che non faceva più gioco di squadra e che ha rassegnato le sue deleghe solo dopo il mio provvedimento di revoca. Il riferimento è stato indirizzato all'assessore uscente Domenico Di Luccia che ha subito commentato. Questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di assessore del comune di Castellabate, una scelta ponderata e maturata nel corso di questo anno e che stamattina ha trovato la sua naturale manifestazione. Adesso si racconteranno tante storie fantasiose, ognuno vorrà dare una giustificazione plausibile per fare in modo che la giostra continui allegramente a girare. Chi conosce la mia schiettezza continua Di Luccia, la mia sincerità nei rapporti umani non avrà difficoltà a capire che la verità risiede nelle azioni, negli atti concreti, nelle parole dette, nelle idee manifestate. Da assessore ritengo di aver dato il massimo, svolto con competenza, lungimiranza, profondo senso del dovere, la missione affidatami. Oggi il sindaco facente funzioni, nell'intento maldestro di dare una spiegazione logica ad una spartizione disgustosa di poltrone, mi affibbia la responsabilità di questa sua operazione, ossia l'azzeramento di tutta la giunta comunale. E infine l'ex assessore termina scrivendo Forse il sindaco facente funzioni dimentica che non era necessario azzerare tutta la giunta per punire l'assessore ribelle, ma bastava la semplice revoca dell'incarico. Caro sindaco facente funzioni spiega al popolo le vere ragioni, racconta la verità e le pressioni ricevute. Anche tu sei stata costretta a capitolare sotto il peso delle poltrone, da oggi inizia una nuova avventura che mi vedrà lavorare ad un progetto nuovo, ambizioso, intraprendente, insieme per un futuro migliore.